Si sono riuniti sotto l'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ancora ricoverato il 19enne Afajibob, ferito con colpi di pistola venerdì sera dal 43enne Carmine Della Gatta, per manifestare la propria rabbia su quanto accaduto al loro amico. Il 19enne, ospite del centro temporaneo di accoglienza La Vela a Gricignano di Aversa, nella serata di venerdì ha dato fuoco per protesta alla sua stanza, causando l'evacuazione di emigranti alloggiati nello stabile interessato. In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, Carmine Della Gatta, uno dei soci del consorzio, dopo aver avuto un'animata discussione con Bob, ha esploso due colpi di arma da fuoco, ferendolo alla bocca. Ora è in casa.